E carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, oggi anche per il caso di Mara Favro, vi ricordate, la donna scomparsa l'8 marzo, abbiamo qualche novità. Mara Favro, 8 marzo, festa della donna, in Val di Susa, scompare, dopo aver fatto una settimana di servizio presso la pizzeria Don Ciccio a Chiomonte. E insomma sapete che è un mistero, è un mistero per cui però sono stati indagati Vincenzo Milione, il gestore della pizzeria e il pizzaiolo Cosimo Esposito. Abbiamo detto anche in questi giorni che accertamenti di tipo irriperibile sono stati effettuati sulla Fiat Panda Rossa, che secondo quando si dice Cosimo avrebbe accompagnato Mara Favro a casa, che poi si era dimenticata le chiavi di casa e poi lei con un passaggio di un camionista torna, sarebbe tornata dalla pizzeria Don Ciccio e poi avrebbe messo le chiavi e poi si sarebbe avviata a piedi verso casa, versione poco credibile. Cosimo dice sì, dice no, poi dice no ma io non guidavo io, guidavo lei, non sono stato io l'ultimo a vederla. Vincenzo Milione in un certo modo conferma, dice sì è vero, lei è tornata perché aveva dimenticato le chiavi, anche le sigarette, si è fumata la sigaretta e poi non ha voluto rimanere perché lui così si era offerto di farla rimanere. L'essione poco credibile, non è mai stato creduto fino in fondo. Oggi, cioè oggi, ieri, c'è stata una piccola svolta per cui facciamo questo video per dar conto che all'improvviso ecco che ieri mattina c'è stata l'istruzione, diciamo così, perché è una visita inaspettata, da parte di carabinieri alla pizzeria Don Ciccio e a Chiomonte insieme con i vigili del fuoco sono state effettuate nuove indagini, nuovi accestamenti. Ora ci si domanda, ma dall'8 marzo possibile ancora che si debbano fare accestamenti? Beh, certamente non è che sono andati lì a fare una passeggiata di piacere. Quindi avranno trovato qualcosa, avranno avuto qualche soffiata, avranno avuto qualche testimonianza, qualche indiscrezione. Certamente qualcosa sta succedendo e non è un caso che, soprattutto Vincenzo Milione, questa figura molto discutibile è al centro dell'attenzione. Bisogna chiedersi, per risolvere questo enigma, cosa è accaduto veramente in quegli otto giorni in cui Mara ha lavorato presso di lui. Ecco, cosa è successo? Cosa aveva visto? Cosa aveva scoperto? Perché la donna in qualche modo è stata messa a tacere? Perché che sia stata vittima di qualcuno che sicuramente è così, non era una donna che aveva la possibilità di scomparire nel nulla, diciamo. Quindi mi vengono in mente le parole di quella ragazza che sentì mi sembra a questo grado, se non vado esatto, è una ragazza che testimoniava contro questo Vincenzo Milione dicendo che lui cercava delle ragazze un po' così che gli pagava poco, però poi diceva a lei se tu fai la gentile con i clienti puoi addorontare. Quindi un posto un po' equivoco. Penso che possa essere accaduto qualcosa del genere pure con Mara Favro. Mara aveva magari scoperto qualcosa. E certamente voi dite ma aveva paura di una denuncia. Forse sì, perché vi ricordo che Vincenzo Milione già non è un personaggio specchiato, ha sulle spalle una condanna a dieci anni. Dieci anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, associazione a delinquere, anche affare di droga. Quindi non proprio una persona specchiata. C'ha attualmente ancora un divieto di allontanamento notturno dalla propria attività. Quindi immaginate. Allora si può anche immaginare che se Mara avesse trovato qualcosa o volesse denunciare qualcosa lui avesse avuto molta paura perché con questa situazione giudiziaria non ci vuole niente che davvero poi ti mettono in galera e non esci più. Quindi ricordo che si leggeva di un giro di ragazze che venivano comprate addirittura in Romania, in Ungheria. Cioè si leggono cose che non so se sono vere al 100% ma era qualcosa di sconvolgente. Quindi Mara può aver saputo qualcosa? Qualche traffico illecito? Ecco, qualcosa certamente è successo. Questa donna non può essere sparita nel buio, nel nulla. Non è credibile il fatto che lei alle 3 di notte si sia messa a fare circa 10 km per tornare a casa. questa probabilmente non è uscita da quella pizzeria. Magari c'è stata qualche soffiata, c'è stata qualche indiscrezione per cui ieri i carabinieri sono tornati insieme ai vici dei fuochi e fuo a primo mattino. Poco dopo, poco dopo verso le 10, sono arrivati anche i RIS di Parma. Ecco, i RIS di Parma e sappiamo che sono un nucleo scientifico altamente specializzato, non credo nemmeno loro che siano andati a fare una gita di piacere. Quindi, tramite qualche segnalazione, sicuramente si cercano tracce che dovrebbero condurre a quello che noi abbiamo sempre sospettato, cioè che Mara non sia mai uscita da quella pizzeria. Magari la prima volta o la seconda volta. C'è il dubbio che non sia proprio mai uscita e quindi che magari anche il pizzaiolo Cosimo possa essere complice di qualcosa dicendo di averla accompagnata, poterla tornare indietro. Oppure che magari il primo pezzo della storia sia vero e che poi ci sia qualche altro segreto maturato nella seconda parte della notte. Ora, certamente qualcosa è successo. Questa donna è stata uccisa. Non ci sono altre ombre nella sua vita, non ci sono altri passaggi, non ci sono altri litigi. Lei aveva conosciuto anche diciamo telefonicamente un'altra persona che voleva frequentare, ma era proprio una cosa all'inizio. Quindi non c'era niente. Ecco, e questa donna, nonostante alcune problematiche che senza altra aveva, con suo ex marito, con la figlia, però andava avanti, avanti con il lavoro. E qualcuno ne ha approfittato. Ne ha approfittato. Sono indagati Vincenzo Milione e Cosimo Esposti e vedremo gli sviluppi di questa perquisizione, di queste indagini che ieri mattina hanno fatto i RIS di Parma, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Vedremo. Spero tanto che ci siano delle novità per dare giustizia a Mara Favro, scomparsa proprio, ironia della sorte, l'8 di marzo, festa della donna. Vi daremo aggiornamenti. Grazie. Un abbraccio a tutti quanti voi.